Cari M.T. Ayers, Marzo è alle porte e non si può che srotolare gli arrivi di Disney+, perché se ne vedranno delle belle dall'animazione ai supereroi passando alle famiglie. Insomma, la solita minestra ben rodata. Preparatevi che si parte! Voglio iniziare con una sana polemica che ci sta sempre, ma prima bisogna assolutamente dire due cose sull'unica serie in esclusiva che ho visto questo mese. Hit Monkey, serie Marvel che funziona ma che al tempo stesso non mi ha preso e ho convinto. Episodi brevi che però guardo sporadicamente e questo non è un bene. Quindi un da vedere in stile Deadpool ma di cui avrei anche fatto volentieri a meno. Proseguo con un film, The French Dispatch, antologico e girato da Wes Anderson che ho sempre apprezzato, che però a sto giro non mi convince. Si funziona, si è carino, si ha un bel cast, ma sotto sotto non mi ha lasciato molto. Peccato, ma è certamente un film molto particolare ed autore, che ho una visione sicuramente la merita. Adesso però è tempo di sfogarsi. Giustamente Disney mi ha detto che dopo due anni molto scontati, essendo io un early adopter, come va di moda dire oggigiorno, il prezzo si andrà ad allineare a quello di tutti gli altri. Quindi ben 90 euro meno un centesimo per un anno intero. Non è poco, visto che alla fine è il servizio che continua ad usare meno di tutti, ma si fa pagare perché comunque è serie e film che la gente vuole vedere. Ok che 7 euro e 50 centesimi al mese non sono la fine, però assieme a tutto il resto, ma meglio parlarne in un video apposta magari. Ah, giusto, non mi sono dimenticato di Boba Fett, solo continuate a guardarvi questo video. Iniziamo quindi con le nuove uscite, togliendoci il dente West Side Story e ne arrivo il 2 marzo. Si tratta di un remake del famosissimo musical, questa volta diretto da Steven Spielberg e adattato da Tony Kusher. Siamo sempre nella New York di fine anni 50, dove pare che le bande di strada imperversassero. Ah, giusto, mi è tornato in mente Gangs of New York e pure The Warriors. Mi sa che la grande mela abbia seri problemi con le bande di strada da sempre. Tornando al film, non credo, reggerà allo storico film del 1961. Ma passiamo da polemica a polemica e questa volta c'entra la Pixar. L'11 marzo arriva Red, nuovo film d'animazione ed in esclusiva per Disney+. La polemica sta proprio qui. I mancati introiti al botteghino perché il giro in sala non se lo farà. Una nota pesante per i cinema e per molte case di produzione che basavano i compensi su quel tipo di introiti. Ma anche un chiarire quanto Disney stia puntando sullo streaming. Parlando finalmente di Red, la storia riguarda Mei Li, una tredicenne insicura che sta cercando di capire cosa vuole essere. In tutto il trambusto dell'adolescenza si trasforma in un gigantesco panda rosso. Vi lascio immaginare il caos e... non è che per caso è una giovane agrezzucco? Rimaniamo in ambito commedia con un'altra scatenata dozzina in arrivo il 18 marzo. Si tratta di un'altra esclusiva e soprattutto di un altro remake di un film. Questa volta Zach Braffe e Gabrielle Union saranno i genitori della famiglia immensa, con dieci figli e pure due cani. Inutile dire che il loro trasferimento in un lussuoso soborgo scatenerà la storia di questo film. Non sono molto convinto, ma eccovi universi paralleli in arrivo il 23 marzo. Il fatto che non abbia trovato una corpertina ad alta risoluzione o un trailer mi indispone un attimo, unito al fatto che la sinosse era praticamente identica ovunque. Comunque quattro amici vivono la loro vita in un tranquillo villaggio di montagna quando vengono separati dall'universo in quattro differenti periodi storici eppure in quattro differenti universi paralleli. Esattamente cosa dovremmo aspettarci da questo film? Comunque, il multiverso tira in questo 2022. Non è che per caso potreste ricicciarmi fuori il 2020 senza la pandemia? Adesso però un film biografico, Gli occhi di Tommy Faye, disponibile dal 23 di marzo. Storia incentrata sull'ascesa, caduta e redenzione di una famosa telepredicatrice degli USA tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso. Umili origini, ciglia maglianti e irregolarità finanziarie. Che volete di più da questo film? Con addirittura Andrew Garfield e Jessica Chastain? Io penso che lo eviterò, ma magari a qualcuno di voi questo genere molto pop, pure droppo pop, può attirare come l'Ucraina per Putin. Ancora animazione per bambini in questo marzo di Disney+, con l'era glaciale e le avventure di Buck dal 25 di marzo. Si tratta di un film originale dedicato al noto personaggio arrivato, mi pare, dal terzo film della saga, famosa unicamente per Scrat. La donola, mezza pazza e comunque simpatica e sicuramente ne vedremo delle belle in questo film. L'ho già detto per bambini? No? Giusto per ricordarci che non siamo noi, cioè un po' io, i destinatari primari di questo tipo di animazione. Dal thriller apparso per la prima volta durante l'ultimo Super Bowl, eccovi arrivare Moon Knight, disponibile dal 30 marzo. Cosa succede quando non si riesce più a distinguere tra sogno e vita vera, ma soprattutto si iniziano ad avere dubbi sulla propria vita e chi si sia in realtà? Basta rendersi conto di condividere il proprio corpo di addormentato e ingenuo venditore di souvenir con un mercenario che ha tanti bei nemici. Quindi il nostro bi-protagonista si ritroverà a capire che sta succedendo mentre fronteggia pure gli dèi dell'Egitto. Il trailer è abbastanza ermetico, il fumetto non l'ho letto e so solo un po' di background, ma potrebbe essere un riempitivo interessante per cambiare un po' genere supereroistico. Adesso è proprio giunto il momento di spendere due parole sulla serie Boba Fett. Inutile girarci intorno, mi aspettavo qualcosa di più, molto di più a dire il vero. Serie interessante, certamente di spessore superiore al nono film della saga, ma non mi ha convinto. Dai ragazzini in Vespa a King Kong e i laser che non gli fanno nulla. Per non dimenticarsi poi che da metà strada perde la sua identità e diventa un minestrone anteprima filler di altre serie. La scelta poi di ricreare attori usando il deepfake mi ha fatto domandare se tra dieci anni o meno serviranno davvero gli attori. Insomma, una serie positiva ma che mi ha lasciato un po' la mano in bocca, facendo di Boba Fett un eterno indeciso senza polso. Ma forse anche questo era voluto. La fine di questo video è vicina, ma non voglio deludervi e ho altri consigli per voi. Anche voi quindi non deludetemi e mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e come sempre commentate e commentate questo video facendomi sapere la vostra. La mia curiosità non ha limiti, ma ecco che avevo lasciato da parte per voi. Intanto tutte le serie Marvel dei Defenders prodotte durante l'epoca Netflix stanno per lasciare quella piattaforma e probabilmente già dal 16 marzo appariranno qui su Disney+. Ma conferma, al momento non l'ho ancora vista. Sicuramente però arriva dall'11 marzo il film Bohemian Rhapsody, che se non fosse per la presenza inopportuna di Malek sarebbe il miglior film sui Queen di sempre. Poi dal 18 arriva Revenant con un DiCaprio, a cui hanno dato l'Oscar per somma di incredibili performance, perché questa è solo ottima in un film fin troppo lento. In ultimo, sempre dal 18 marzo, arriva Starbot, una sfida che segue quattro squadre di ragazzini in competizione tutta robotica. Potrebbe essere una sorpresa. E questo, cari M.T. Ayers, è davvero tutto per questo video. Alla prossima! Ciao! Ciao!